Un altro secolo, dall'inizio del secolo scorso, degli anni venti, questo era un signore che per vivere vedeva noccioline per una strada, io me la ricordo questa cosa quando ero piccola, c'era questo tipo gruncio, c'erano dieci nocciolini contati e mi ricordo pure che c'era quell'ultima che era tutta incastrata alla fine e che io rompevo tutta la carta perché l'avevo pagato, me la dovevo mangiare, però c'è un bellissimo ricordo, in questo intonava questo, ok? Un manì Un manì Un manì Un manì se me lo vengo Un manì 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 Sì, 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 sì. 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 Sì, sì, sì. Sì, 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 sì. Sì, 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 sì. Sì, 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 sì. Sì, sì, sì. Sì, sì. Sì, sì, sì. Sì, sì. Sì, sì. Sì, sì. Sì, sì.